salve a tutti sto recensendo l'aspiratore di fumo della jamie come vedete il camionetto è acceso ho comprato l'aspiratore perché avevo un po di problemi di fumo in casa adesso non ne ho più ottimo prodotto veramente come vedete qui ho montato la cassetta con l'interruttore e il variatore di giri della ventola non mi sto dando nessun problema adesso andremo sulla terrazza e vi farò vedere l'aspiratore di fumi insomma si deve fare un po di strada perché la ragazza purtroppo non è accessibile la casa mia adesso andremo sul terrazza e vi farò vedere l'aspiratore in funzione ecco l'aspiratore in funzione lo faccio da qui perché non posso scendere per prendere scale e quant'altro ok vi vedo ottimo prodotto nulla da dire